E' morto ieri mattina nella festa di Santo Stefano, il 63enne di Sulmona, Guido Lastra ha investito lo scorso 17 dicembre in via Lamaccio da un anziano che guidava una Fiat Panda. Inizialmente le sue condizioni non sembravano destare particolari preoccupazioni, ma poi, visto il repentino peggioramento, si è reso necessario il trasferimento al San Salvatore dell'Aquila dopo le prime cure prestate dai sanitari dell'ospedale di Sulmona. Da lì è cominciata la lotta del 63enne per continuare a vivere, che è finita purtroppo ieri mattina. A San Salvatore l'uomo era stato sottoposto anche a un intervento chirurgico alla testa, uno scontro, quello di via Lamaccio, che si è rivelato più grande di come si prospettava all'inizio. Ad accertare eventuali responsabilità e a ricostruire la dinamica del sinistro ci penserà la polizia di Sulmona, che si è già occupata dei rilievi di rito. Al momento dell'incidente, come accertato dagli inquirenti, non tutti i lampioni dell'illuminazione pubblica erano regolarmente in funzione.